Salve, cosa ne pensate del campionato di calcio di quest'anno? Che schifo, soldi buttati, infatti detesto il calcio. Il calcio di quest'anno è come quello degli altri anni, è tutto un magna magna eccetera. Che non me ne fai una beata cipalippa. Per me il calcio può morire, può essere distrutto all'istante perché per me è soltanto un mondo di mangia mangia e per me in mangia mangia... Ok, grazie. Si, mi ricordo qualcosa, sono traumatizzato da piccolo da questo sport. Sì, 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 mi ricordo che avevo una pallonata in faccia, da quel momento ho visto il mondo a stelle e vedo il campionato di calcio come un campionato di sodomia. Guardate, la porta, la porta, la porta, la porta, è come una deflorazione, la palla entra, boom, tutti soffrono perché la palla è entrata dentro. Ah, gli altri che godono, che godono, che godono. Mi dà un'idea di sodomizzazione di massa. Che campionato? La Serie B? Un schifo proprio. Serie A se vuoi parlare? E appunto, è tutto comprato, sono comprato le partite. Lo trovo bellissimo. Cosa ne penso del calcio? Non ho una buona concezione del calcio perché penso che innanzitutto parto dal termine tifoso. Il tifoso è un malato, secondo me. Quando uno ha il tifo vuol dire che è malato. Beh, io penso che sia una stagione molto bella in quanto a sorprese, soprattutto per la Roma che ha vinto sette partite di seguito. Però da Juventino sono un po' deluso dalla Juventus, da questi piccoli intralci che stanno avendo. Però c'è ancora da giocare, ci sono molte partite, quindi la Juventus si potrebbe ristabilire. Mi è dispiaciuto per il passaggio di Matri al Milan, però questa Juventus sta andando bene, secondo me. Si deve soltanto un po' rimettere in gioco. Il campionato di quest'anno è molto competitivo, ci sono squadre molto equilibrate, direi. Ci sono squadre all'altezza della Juventus l'anno scorso. L'anno scorso ha dominato la Juventus, quest'anno c'è la Roma, c'è il Napoli, c'è il Milan. Cosa altro dire? Ci sono nuovi giocatori, le squadre hanno fatto nuovi acquisti. No, non seguo più lo sport, non sia. Come mai? E' rimasto deluso da... Sì, mi dispiace, il Milan mi sta deludendo. Ah, lì, il tifoso del Milan. Che squadra pensa che vinca quest'anno? Non me ne può fregare di me. Qual è la squadra che secondo lei vinca lo scudetto quest'anno? La Roma, mi sta piacendo. Ma lei che ne pensa di che squadra vincerà quest'anno? Secondo me vince la Juventus. Oltre alla Roma, chi vede bene? Nessuna, solo la Roma. Di che squadra sei tifoso? Il Milanista. E del Milan? Milano. Allegri sta facendo un buon lavoro? Eh sì. Ok. Secondo te dove può arrivare il Milan? Sì, molto in alto. Molto in alto, precisamente? Ritorneranno i giocatori che sono infortunati. Ma può puntare anche lo scudetto? Penseremo di sì. E invece in campo europeo, in Champions, dove può arrivare? In alto anche. Mi piace vedere le partite degli anni 40, degli anni 50, quando i giocatori avevano lo stomaco vuoto e lavoravano, facevano calcio per passione e divertimento. Adesso li vedo un po' troppo anabolizzati, un po' troppo pompati. A volte vedo i miei amici che si disperano per una partita, per un gol, per un gol subito. Abbiamo vinto, abbiamo perso. E io gli dico sempre, ma tu l'hai sciocata la partita? Non penso. Cosa ne pensa di Allegri come tecnico? Che arrivasse veloce il giugno e così se ne va. Ma lo sa che quest'anno in estate era vicinissimo alla Roma, poi Galliani ha stoppato tutto. Perché noi non lasciamo andare le persone così, prendiamo i contratti e poi... Quindi ha fatto bene. Eh sì. Cosa dovrebbe... Inzaglio Prandelli. Però la Juve ha fatto sei vittorie e un parezzo, quindi non è che è andata malissimo. Rispetto al campionato dell'anno scorso, però si poteva fare meglio. Vabbè, comunque c'è da giocarsela come al solito. Tanto siamo una grande squadra, ci possiamo permettere di fare qualche pareggio. Forse a livello di gioco sei rimasto deluso. A livello di gioco un po' anche di comportamenti da parte di qualche giocatore, però si può fare meglio. Lei cosa ne pensa di questi nuovi acquisti? Tipo del Milan, della Juventus o della Roma? Ma proprio il Milan ha fatto pochi acquisti, devo essere sincero. Beh, c'è sotto l'acquisto di Matri, da Juventus. Vabbè, Matri era già un... ma non è un top player. Noi dobbiamo vedere il top player in questo campionato. Dai campi di calcio è tutto, Giovanni De Marzo vi saluta. Ma il calcio è quello dove c'è il cerchio e si butta la palla dentro? No, è il basket. Mi sa che... Ma il calcio è quello che stai per ricevere? Oh, io ho il cellulare nuovo. Che figata. Huawei. Ma il calcio è quello che si gioca con le racchette? Che c'è una rete... Noi, il calcio è quello che si usa la palla ma si calcia con i piedi. Ma il calcio non è il problema, sento il formaggio. È inglese. Buonasera. Possiamo intervistarla? Grazie. Ci sta, ci sta. Ci sta. Ci sta. Ci sta. Ci sta. No, no, no. È da andare. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Non si fa l'intervista nel... Può riprendere la signora, per favore? Si fa l'intervista nel... Ma il calcio non ce la dà l'intervista. Si nasconderà. La mia moglie ha poi l'intervista nel giro. Si nasconderà. No, no, no. Ti mette le ali. Ma è una cosa nostra, mi piace. Si lavaria, cosa ne penso del baio raga? Cosa ne penso? Chiedi, il signore è interessato? Buonasera. L'intervista calcistica. Aspetta, riprendi, riprendi, riprendi. Ok. È meglio non chiedermi cosa ne penso di alcuni docenti? Risponda alla domanda. Dica. È del calcio in generale? Dico Fazio. È il signor Tietro stamattina, anzi stasera che sembra un direttore della Fiat e quindi stasera fa la conquista. Bene, professore, lei che cosa ne pensa del campionato di quest'anno? Ha detto beh o men, professore? Beh. Beh, professore. Sì, Berlusconi sta ancora in politica e vince col Milan. Stiamo parlando di calcio, non di politica. Ah, calcio. Calcio. Lo sport che si prende il pallone e si calcia. Sì. Dietro, siamo qua, stiamo aspettando che esca il Presidente della Repubblica. Effettivamente la giornata politica è stata... Puttare, veloce. 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 Mamma. Ma che era? Torriolo. No, no, è la scuola, è la scuola. È interno. È il canale 48. I partiti ci sono. Ok, funziona così.